musica 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 qui voglio giocare con voi a tor... cor... gio... com'è? warzonata lagato? warzonata lagato? lagatina warzonata giochiamo insieme giochiamo insieme a warzonata ok ma se ho fatto gazzada soffia la teglia la rigata di dada cantiamo per festeggiare vai cosa cantiamo? non abbiamo vinto non è una gran vittoria questa vabbè media facciamo quella lì quella non mi piace molto a me i nonni ringrazio ma se ho fatto gazzada dai poi soffia la teglia la risata di dada mi troppa la connessione dai venzio me la fai live Luca sei ubriaco? no 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 se qualcuno hai scoschato il boccione di birra che gli era rimasto dall'ultimo dell'anno no zitto che l'ho finito tipo una settimana fa era diventato cazzo me la scooters ma che schifo ma buttalo via boy la birra 2 settimane a finire un mese è chiaro perché io sono power perché io sono power ma Luca quando finisce la va bene si ciao dadone che ti serve? c'è gente qui che devi fare Luca? ho preso 2 ore di pausa grazie innanzitutto che te c'hai contatti lo so ormai con chi? con i signori di steam con gay band tu mi hai detto che si chiama in un altro modo vaul vaul tu come si chiama? si no è valter valterino valterino vuoi andare in culo? eh? no no nel senso possiamo parlare qua su figa o devi cambiare? cosa? ma il canale culo ma vabbè i canali di discord di Dario posso? certo certo ok no stavo dicendo secondo me dovrebbero fare come sullo store qua di microsoft dove io qual è lo store di microsoft? scusa il microsoft store ascolta ascolta io ho fatto cerca è pazzo stasera no no aspetta che qua lo devo dire ho fatto cerca è una merda no steam è fatto male ascoltami ascoltami ho cliccato cerca è uscito non ho scritto niente solo cerca è uscito warzone cliccato ho fatto a su cerca a su warzone a su gratis finito cioè è stata la cosa più semplice del mondo no accetta paga refuta pagamento ma te quando li vedevi i vlog in macchina di god's dread che prendeva le buche a roma dada le conosce bene quelle ma proprio ma che a me stai a blast io non so di roma comunque sono degli castelli no era per coinvolgerti nella conversazione luca ma sei ubriaco io te lo richiedo stai sbiascicando no no sembra ho provato la birre du demone ah poi 12 gradi ecco perché 12 gradi di birra ecco ho detto boh però va giù sono 12 gradi che c'è scritto tipo il vino vabbè luca cioè le abbiamo avuto il stomaco vuoto o il stomaco pieno luca adesso è il stomaco normale che cazzo di si è solo che non è una birra normale questa quindi un attimo ti sale si sale bergamasco soffia la tegliera la risata di dada io ci avevo 14 girbilli perché c'hai i girbilli i girbilli io ne avevo due se sono accoppiati ne hanno fatti i 14 e poi appena nato si mangiano cosa? si è mangiato i girbilli dai luca che schifo i tuoi genitori si sono mangiati i girbilli i girbilli i genitori perché si sono mangiati i figli? ecco in chat luca 4316 scritto i crescetti lo fanno no 4996 scritto i crescetti lo fanno in continuazione luca 1996 luca hai nominato vabbè ah oh ma ho sbagliato a legge ho sbagliato a legge due numeri no no vabbè sono firmi si ma fa tipo mamma mia che baracca i due numeri differenzi non ho capito no che bello che stasera qua posso parlare liberamente che non viene Dario a cacciarmi si si l'hai chiamato no no nel senso che di solito non sarei mai arrivato l'hai chiamato l'hai chiamato le sghede che si sta a sfregare le mano porco due si è lì visual visual era tanto che i mangaka non facevano oh le sghede che c'è luca ma guarda cosa mi scrive le sghede ti incazzi più con la chat in anni che con la tua ha ragione ha ragione luca ha ragione cioè vai negli altri canali e sei e sei tipo superman nel tuo sei una cacchina secca bianca al sole cioè com'è possibile ahia senza parole eh incazzato me sbatto le fie come un battipanni nanni ma è vero che tu sbatti le fie come un battipanni si un tempo si e perché ora non lo fai più perché sono ingrassato oh porca miseria dura luca mi consigli un'idea per un reel certo non li fare va bene poi fine finita l'idea ok poi poi basta dimmi un'idea dammi un'idea se non faresti un reel che cazzo c'hai con Trini sei pazzo rispondessi così alla chat tua luca staresti a posto guarda infatti vada dai come chiedermi vuoi chiedermi oh luca mi dissi come fare un tiktok eh è grazie al cazzo è la stessa cosa è il tiktok il tiktok di instagram ma dimmi dai oddio vada mia un'idea lascia perdiamo sta stronzata che te sei autoin posto lucra lanni di qualcosa cioè lui lui le schede ora metterà la tua faccia leggi leggi legge l'ultimo commento lui adesso sta già montandoli e metterà la tua faccia in un video ma no perché la tua faccia perché c'è la mia voce capito adesso le schede sei arrabbiatissimo le schede no ma così è su un'altra dimensione cioè vabbè luca mi gosta vaffanculo si si oh mi sta a chiamare il telefono ah è Giulia penserà che so svenuto qua sopra aspetta adesso fra un po' rispondo ragazzi ti dico il 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 che cazzo stai a di ho detto io il consiglio e poi devo andare però giochiamo domani che ci sono il 20% dove vai luca stai con gli amici no c'è il 20% dei che dei cervello che c'hai allora stavo dicendo dada si tu fai così il reel ti registri 4 o 5 aspetta luca resta fino a a mezzanotte e mezza così d'anni fa 2000 de media bravo bravo tu fai 4 o 5 risate come quelle che hai fatto un'altra volta con 4 o 5 no se ne abuso poi non fa più ridere la risata non mi posso con due non ti posso spiega niente devi farmi parlare un minuto seguente mi pari dario quando non lo fai parlare uguali allora c'era giù vedi c'era giù dario c'era giù fai in apposto stai a sentire Matteo luca e comunque ascoltami e fai così registri 4 o 5 risate e poi le contestualizioni al reel tipo fai quando vi killano su Tarkov e metti la finalizzata che fai bella parte divertente scusa e poi fai quando ti one shottano su Warzone e metti la seconda che fai ma che cosa per me non li dovresti fare comunque quella è l'idea della base che sei sbagliato perché non li dovrei fare ma che palle fai twitch metti le storie su instagram fai post rispondi ai messaggi luca bisogna essere in questo lavoro bisogna essere tutto fare perché se fai una sola cosa muori esatto va benissimo così poi dopo metti la risata che fa uguale cosa ma cos'è un posto ma che cazzo dici luca ma perché non ci boosti l'instagram volpescu l'ho appena detto ragazzi andate a seguire no ma no così cosa fai lo dici alla chat dove c'è il comando luca luca è geloso è geloso non è non è un fratello di simone e dario che falle di simone e dario cosa cazzo si sta dicendo l'instagram di volpescu che cazzo dici che l'ha detto l'hai detto tu adesso quindi lo confermi sei geloso di dario e simone no luca non pensi che spammare me e nanni su instagram sia un bel modo per dimostrare che cosa significa volersi bene dice volpescu in chat pure secondo me una bella storia che ci taghi ci fai raggiungere 10k sono completamente d'accordo con voi facciamo una challenge allora ascoltare no no serio una challenge però tipo possiamo lanciare poi la challenge qua e io la challenge su instagram cioè tipo dico fate arrivare questi miei due amici a 10.000 non adesso lo faccio domani perché adesso non so come in condizione a 10.000 follower così hanno su ex qual è la qual è la challenge allora che io dico arriviamo ti a miei amici da volpescu e nanni ok 10.000 followers ok non lo so nanni inventatela tu inventatela tu noi ti spammiamo per le sub come che si la challenge è se arrivo prima io a 1.000 sub voi 10.000 follower no no cioè chi arriva prima ben alloggia ma dovrebbe essere un aiuto che ah così reciproco no ma tipo che ne so una roba tipo che facciamo non è una penitenza per far contenti chi ci sia penitenza che ne so la penitenza è che volpe si guarda un film che non gli piace io mi leggo un manga che non mi piace non lo so che cazzo no nanni non sei in condizione un attimo una cosa carina simpatica che tipo però fa tipo che eh scusami ripartiamo aspetta che mi sta richiama Giulia se non vado mi mangia se vinco io volpe fa la reaction a your name e nanni si guarda tutto deathknot se vincono loro io leggo jojo ma chi è che vince come faccio a vincere come allora vinco io se faccio arrivare voi 10.000 follower su instagram ok quindi è più difficile che io riesca a vincere sono due profili vincete voi se io arrivo prima di voi a mille sub ma ci siamo già noi a mille sub no io che voi fate arrivare me non hai capito niente ah ah ho capito ho capito vabbè luca ma sei a 300 sub cioè come faccio cioè non siamo mia madre maghi vabbè nanni ma anche se perdi non succede niente magari hai vinto sei arrivato prima 10.000 nanni non è che devi per forza partecipare per vincere è solo cioè si sa che io perdo è normale ma pure se io e Mase non facciamo il vostro tag così piccolino piccolo piccolo ce lo metti anche a noi certo a posto perfetto sono molto contento grazie devo andare a dormire ragazzi molto tardi stasera già mezzanotte 22 22 no no 22 massimo devo andare a dormire incredibile ciao buonanotte luca grazie della compagnia buonanotte a voi domani giochiamo si volentieri cp2 yeah yeah ma se ho fatto gazzata